La cosa che mi ha commosso di più è stata un acquisto volante, facevo vedere a due signori con una panciola bella grande e una carrozzina e loro contrattavano il prezzo perché non li avevano, una signora che passava ha detto che lo regalo io ed è stato veramente commovente anche perché quest'altra signora non era molto ricca, era una badante, però ha fatto questo bellissimo regalo a una coppia che aveva proprio tanti problemi e voleva risparmiare, mi ha molto commosso, poi vabbè quando vengono i bambini che giocano mi fa sempre piacere perché è una vendita particolare, è il contatto che mi piace, il contatto con le persone.